Ancora un riconoscimento per il modello virtuoso di accoglienza dei migranti a Montesilvano. Il Comune si ha giudicato un bando da quasi 2 milioni di euro con i quali potrà rispondere sia alle necessità degli immigrati che dei cittadini in difficoltà e creare nuova occupazione, ha spiegato il Sindaco Francesco Maragno. Siproimi è il sistema che ha sostituito lo SPRAR, in particolare lo SPRAR per i minori. Montesilvano è risultata al primo posto tra i comuni finanziati dal nuovo progetto in base a quelli che sono i parametri fissati dal nuovo decreto sicurezza firmato dal Ministro Salvini. Siamo ben contenti di questo obiettivo, sta a solidificare tutto il lavoro che noi abbiamo compiuto in questi mesi, in questi anni, che è passato attraverso la chiusura dei centri di accoglienza straordinaria, alla gestione diretta dei migranti, una riduzione automatica sia dei flussi ma soprattutto del decoro urbano, della sicurezza urbana. Oggi ci rimbocchiamo le maniche per affrontare questo nuovo percorso, con la consapevolezza di avere delle risorse anche per andare ad avvicinare gli italiani in difficoltà, perché sembra paradossale, ma attraverso questo progetto che ci è stato riconosciuto dal Ministero, con la sottoscrizione proprio del Ministro Salvini. Noi chiuderemo una parte dello SPRAR per gli adulti, apriremo le nuove sedi per lo SPRAR per i minori e la vecchia sede che era destinata agli adulti diventerà una casa condivisa per gli italiani in difficoltà abitativa. Siamo riusciti con un'unica iniziativa a soddisfare delle richieste che ci venivano dal territorio e questo in più ci porterà probabilmente circa 40 nuove posizioni occupazionali che andremo a soddisfare nei prossimi mesi nel momento in cui il progetto diventerà operativo.